Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In A1 rallentamenti per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico e Firenze Nord in direzione Roma. Stanotte in orario 22.6 chiusa per lavori l'entrata di Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Bologna. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze dal lunedì 13 febbraio per il completamento della sede tramviaria in piazza Leopoldo, cantieri sul lato nord della piazza, mentre quello sud sarà usato per la viabilità alternativa. Infine per i treni il regionale 23487 da Firenze Santa Meranovella a Pontremoli viaggia con 77 minuti di ritardo, arrivo previsto alle 20.56. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!